Uh, i cinecomics con le donne, uh, che paura le donne, uh, i cinecomics con le donne, vi dovete spaventare, uh, vabbè basta, sigla! Uh, buonasera a tutti, buonasera, benvenuti all'episodio numero 164 della 400 Live, sono Nanni Balcobretti in persona, con noi, con me, abbiamo Toshiro Gifuni e abbiamo Luotto e spero di avere anche tra qualcuno di voi qualcuno che ci aggiora nei commenti sui risultati della partita. Grazie, stavo appunto per chiederlo, se ve lo dimenticate ce l'ho scritto qui nell'intestazione. Esatto, allora cambio subito l'intestazione anch'io, fatene a cambiare con le domande importanti, ecco qua, buono, lo sapevo, era una cosa che vogliamo sapere. Molto bene, allora, innanzitutto sbrighiamo le formalità, le cose importanti, abbiamo già un abbonamento e ringraziamo fortissimo Nathan Corso per l'abbonamento di livello 1. e vai, adesso oltre alle vai mio, che mi è uscito spontaneo così per l'emozione, ricordo le regole dell'abbonamento che funzionano così, fate molto felici, mi fate venire proprio, fate uscire un e vai spontaneo, super spontaneo, fate felici le nostre mascotte, tra cui Tulsa Doom, grandissimo, tre caprotti e Paolo Gucci, perché io ho deciso che non riesco più a stare senza Paolo Gucci. EY, lo dice così, non sono due W, quelle di EY, ma è un W che fa EY. Giusto, giusto. Che cosa che dovrei, adesso mi organizzo per la gif animata di Paolo Gucci, perché così immobile non rende. Comunque, oltre a questo, con altrettanta trepidazione, è che Mubot ci dica di quanti mesi è l'abbonamento di Nathan Corso, che ormai Mubot ha una vita sua a un certo punto. Comunque, oltre a questo, gli abbonati non vedono la pubblicità durante le nostre dirette, inoltre... 3 e 3. 3 cosa? Il punto 3 dell'abbonamento. Ah, il punto 3, c'ha ragione, scusa. L'altra cosa, devo sempre prendere le istruzioni, che mi sono anche accartocciate, il punto 4, viene raddoppiato il valore del vostro voto durante l'assegnazione del premio Jimmy Bobo, che è il premio che noi assegniamo al giovedì sera, quando vi parliamo di un film in particolare, e poi scegliamo nella scheda IMDB del film, troviamo 5 nomi tra quelli che ci sembrano più buffi, e vi facciamo votare il vostro, quello che vi fa vedere io. È vero che poi verrà fatta un'asta benefica un giorno a scelta, poi magari il giorno di Sylvester, in cui verrà messo all'asta il foglio originale su cui hai scritto... Eh, guarda, ti direi di sì, il problema è che poi mi tocca imparare la memoria entro il Sylvester, se no poi non so... Se solo ci fosse un modo di farne un'altra copia. Esatto. Purtroppo, no, purtroppo è un NFT, si dice così. Comunque abbiamo un altro sbonamento. Un altro sbonamento, sbrighiamolo subito, grazie mille a Sylvester Peckinpah per l'abbonamento di livello 1, siamo assolutamente onorati, e a te al volo i ringraziamenti di Tursa Doom, Caprotti e Stituto Tursa Doom, Angela Doom, che anche lei mi piace sempre a metterla perché mi fa spaventare, e poi Paolo Gucci. Mi fa ridere che... Mi fa ridere che... Mi fa ridere che... Mi fa ridere che... Paolo Gucci, il ditino. E' wise. Fantastico. Comunque abbiamo un sacco di cose di cui parlarvi stasera, tra cui un esperimento molto importante che abbiamo fatto. Ora, io ho letto delle, non so voi, io ho letto delle notizie preoccupanti riguardo a The Marvels, qualcuno di voi l'ha visto The Marvels, facciamo subito la figura di quelle che... Io non sono andata a vederle. No, nemmeno io. Mi hanno spaventato le notizie che ho letto sul web, ovvero che i maschi non possono entrare. Ah, ecco perché non ci siamo andati. Deve essere per quello, cioè... E' successo questo? Cioè, lo dico perché l'ho letto veramente da più parti. Alcuni... Alcune testate hanno gioccolato. The Marvels ha floppato. Forse che è finita la moda dei film con le donne. Ora io ho pensato, è una domanda interessante. Andiamo a vedere qual è il film che in questo momento sta stravinciando la classifica degli incassi dell'anno. a Barbie. Ora, forse in Italia. Allora andiamo a vedere qual è il film che sta stravinciando la classifica degli incassi in Italia. C'è ancora domani con la cortellese. E il film di Magica Trippi, quindi. È il Barbie italiano. Esatto. Il prequel in bianco e nero di Magica Trippi. Per cui, no, vabbè, mi sono preoccupato. E ho pensato, boh, può essere comunque che questi film, cioè, se lo guardo un maschio, gli casca il bigolo. Può essere. Ho mandato avanti Jack Black. Jack Black gli ho fatto vedere il trailer di Madame Web, che fin di cui vi parleremo tantissimo. Ho mandato avanti lui. Lui ha guardato i trailer di noi. E subito dopo ha controllato. Però, insomma, ha controllato. L'espressione è un po' indecifrabile. Non so capire se l'ha trovato oppure no. È un'espressione di terrore, in effetti. Ma è terrore perché quello che c'era prima già era disperante. No, è terrore. Terrore è questo, perché lui era vestito quando ha guardato i trailer di Madame Web. Questo è il punto. Per essere sicuro di trovarlo. Si è cavato giù alla velocità della luce. Vabbè. No, comunque, insomma, mi ha rassicurato a Jack Black che ha detto che dopo l'ha trovato. Dopo quei 3-4 minuti di ricerca accurata ha potuto verificare che era tutto a posto. Ho guardato il trailer anch'io. Ho decretato che era sicuro. Quindi ve l'ho proposto anche a voi due. E non so che impressioni avete. Allora, io innanzitutto volevo tenere conto di altri due abbonamenti che sono arrivati, perché sennò poi ce li perdiamo. Giusto, facciamolo immediatamente. Grazie mille a Giaver90 per l'abbonamento per 17 mesi consecutivi. È tuo il primo schiaffo che daremo Sanuka a Timoteciami. Un'onore. E grazie mille per l'abbonamento di livello 1 a Walter Ensil, grandissimo. Assolutamente onorati e effettivamente. Ma l'ero perso, questo. E allora torna ancora più indietro con gli occhi del cuore. Ah, ancora più indietro c'è anche a grande Jean-Claude Van Gaal. Grazie mille anche a Jean-Claude Van Gaal per l'abbonamento. Per un anno consecutivo Jean-Claude Van Gaal riceve ufficialmente la dittatoranza onoraria di Valverde. Molto bene. E a voi subito i ringraziamenti. Tulsadum, un bel caprotti classico. E... Ah, Paolo Bucci. Perché non fanno lo spin-off di Paolo Bucci? Devo dire che lui ha un po' perso l'occasione di arrampicarsi sull'Empire State Building truccato così. Sarebbe stato molto meglio. L'altra mia domanda è Paolo Bucci, nella sua vita, ha mai incontrato per caso Enzo Ferrari? E quindi magari ce lo ritroviamo anche nella biografia di Michael Mann. Ah, ce lo troviamo nel... No, spero. Cioè, è una domanda che faccio. Cioè, sto... Italiani fatti dagli americani Cinematic Universe. Sì, per sì, sì. Poi c'è Adam Driver che fa un italiano. Secondo me Adam Driver e Jared Leto sono ormai i due italiani per eccellenza che dovrebbero fare film in coppia tipo Stanley e Olio. Esatto. Però Adam Driver fa quello senso, quello serio e Jared Leto fa Paolo Bucci tutte le volte. Quindi più come Gianni e Pinotto, diciamo. Secondo me secondo me i nuovi Franco e Ciccio li farebbero bene se ci pensate. Che miseria? Adam Driver e Jared Leto fare i nuovi Franco e Ciccio ci stanno veramente bene. E no, poi Jared Leto ci andrebbe a nozze. Ce lo vedi che fa in primissimo piano la faccia con gli occhi strabici che fa Ciccio. e poi vai in mezzo per due mesi. Sì, sì. Proviamo anche Bud Spencer e Terence Hill. Eh, fantastico, fantastico. Eh, va bene. Vogliono sapere giustamente se Toshiro ha cambiato stanza. Sì, sì, sì. Come dicevo a Nanni sono abbastanza nomade in questo periodo quindi cambio stanze computer apparecchiature tutto datato e che funziona molto male. La vita del fuorisede. Praticamente, praticamente sì. La vita contra in Italia. Eh, allora stavi se non ricordi Lotto stavi spiegando il tuo parere su Madame Web. Allora, il mio parere su Madame Web è questo. Io non voglio più probabilmente l'idea che voi due vi sarete fatti di me è che io sono il boomer a cui si chiede un parere sui film di supereroi e io dico non ho idea di che cazzo siano questi supereroi perché non li conosco e quindi mi baso sul fatto se il trailer mi piace vado a vederlo e poi fingo di sapere chi sono queste persone ma in realtà non lo so. Madame Web io credevo che fosse una roba tipo su sul deep internet che ci fossero delle compravendite. Ah, guarda, infatti io ti trovo subito perché la prima cosa a cui pensate anch'io è che fosse amica di Cyborg della Justice League che mi ero preparato che se vi ricordate Cyborg era l'uomo con l'internet nelle mani per se fossero amici e qui mi ero preparato. Questo è un film Sony quindi sono diciamo dai creatori dalle menti dietro Morbius e Venom. Esatto dalle menti brillanti dietro Morbius e Venom. Allora la mia idea è questa non ho la minima idea di che cosa ho visto quando ho visto il trailer credo che come livello di interesse nei miei confronti questo film appunto rivaleggia con gli altri supereroi Sony tipo Morbius e Venom di Venom ho visto solo il secondo senza aver visto il primo e solo perché volevo ero in un posto all'estero e ho detto voglio andare almeno una volta al cinema qua e davano Venom due ci sono andato ero l'unico con la mascherina e poi e Morbius ovviamente non l'ho visto perché non vedo perché avrei dovuto questo l'unica cosa che ho pensato è ah c'è Sidney Sweeney che esattamente nel ruolo di quella che fa venire voglia di andare a vedere il film alle persone che non sanno di che cazzo stiamo parlando e per me ok e questo è quanto ho da dire ma anche detto che è uscito anche un altro trailer c'è il trailer di un altro film con Sidney Sweeney che è una commedia in cui lei fa finta di essere fidanzata con quello biondo di Top Gun Maverick ah aspetta con con il leggendario Glenn Powell esatto sì scusami Glenn Powell di Expendables 3 esatto quello che noi abbiamo preso in giro per tutto il tempo quando è uscito da Expendables 3 poi lui ha detto ah sì ve la faccio vedere io e poi si ruba la scena effettivamente il Top Gun Maverick penso che sia uno dei migliori in campo e poi adesso è lanciatissimo è lanciatissimo e fa questa commedia da altri tempi non si è ancora visto il manifesto ma è quel tipo di commedia dove nel poster ci sono loro due di schiena uno contro la scena degli altri su sfondo bianco li fanno ancora così li fanno ok cioè non ho visto il poster ma immagino che sia assolutamente così ma è commedia natalizia oltretutto è commedia non è natalizia perché sono sempre in costume da bagno e quindi vabbè è Natale in costume da bagno esatto ci si fanno delle formalità sì cioè nel trailer c'è una scena in cui gli va un ragno addosso e lui si tira giù le mutande e questo è questo vi dimostra che mi ricordo meglio quel trailer di quel film lì che non quello di Madame Web e sono contento che la gente sia boni per sentire me che dico questo parere su Madame Web allora Tussiro so se hai un'opinione dopo di che dopo la tua opinione sul trailer dopo questo ci tenevo a dire che l'ho visto il trailer di Madame Web non ho idea di che cazzo ho visto e non so se vedrò il film però sarò felice di dare un'opinione anche sul film qualora lo vedessi però finora hai detto piuttosto una commedia romantica con Ken Powell sì no sì difficile andare oltre dopo questi contenuti così veramente validi e sinceri nel senso abbiamo visto un trailer da cui non si capisce niente nella mia conoscenza di base del personaggio dei fumetti da cui tratto doveva essere una vecchia molto in carta pecorita proprio di quelle con le ossa fragili fragili e invece Dakota Johnson e quindi questo è tutto quello che sono riuscito a trarre dal trailer ah no c'è quello c'è c'è Tarra c'è il protagonista del profeta che fa il cattivo dopo essersi fatto tipo otto mesi col preparatore atletico a mangiare pollo e steroidi possiamo vedere il team che non l'aveva ancora fatto vedere questo è il team delle protagoniste è un buon team sì per me ok a me sembra di vedere ragazze a beverly disco a professoressa che è quello l'effetto min spider con le professoressa il primo incarico sì qualcosa del genere comunque non so io direi siccome nemmeno io so niente di madame web siccome ci manca l'esperto di fumetti della redazione che l'esperto numero uno penso sia d'art von trier più o meno su quel livello sotto è george romer l'esperto numero tre della redazione è il pubblico da casa e probabilmente giampiero giampiero ha già detto qualcosa ha detto quella al centro potrebbe essere la donna ragno in borghese ora se intendi Dakota Johnson no perché la donna ragno alias spider woman è confermato che è proprio Sidney Sweeney allora guarda io a questo punto per comunque per non farvi perdere troppo tempo e per dire qualcosa di qualche informazione utile io andrei su wikipedia che wikipedia non mente mai quindi scopriamo tutto quanto e l'ho detto prima avevo trovato delle notizie interessanti allora rinforco un attimo gli occhiali se non cedo niente allora questo mi spiega la pagina di madame web di wikipedia allora madame web intanto si chiama cassandra web con due b e quindi è probabilmente parente del regista di amazing spiderman questo mi risulta ecco perché si chiama così esatto esatto siamo ancora siamo ancora quel tipo di fumetti questo mi fa ridere questo mi fa già ridere scusate allora cioè di solito ci sono i nomi parlanti nei fumetti no cioè uno che ha un supereroe che si chiama in un modo e poi il suo nome vero è un nome che più o meno lo richiama adesso mi vengono esempi perché mi vengono solo i supereroe cassandra web però mi fa ecco l'unico esempio però mi fa ridere questo il supereroe si chiama madame web come chiamiamo la persona che si trasforma in questo supereroe e mi vedo questa sala riunita e dico allora deve essere un nome simile adesso è un nome che è più o meno nell'amido quindi provate a pensare ragnatela 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 tu ragnatela a giudicare quindi lei praticamente ha il nome della sua identità segreta che è il suo cognome cioè il nome della sua identità segreta è come la chiamano al ristorante quando quando entra sostanzialmente o quando va dal dottore che ne so è meravigliosa questa cosa e comunque vabbè madame web è una chiaroveggente e quindi non è necessariamente una che va sull'internet e non è una che prevede cosa c'è scritto sull'internet prima di googlare e dunque allora come dicevi giustamente prima tutto sciro wikipedia spiega che è paralizzata e cieca diamo un attimo la corrispondenza con l'immagine eccemente allora non possiamo non sappiamo magari questa è una gif animata e lei è effettivamente paralizzata potrebbe essere questa magari è una gif animata come in effetti se notate tutte le altre stanno guardando da un'altra parte quindi può essere sì può essere ok o in quel momento sta chiaroveggendo qualcosa esatto che lei chiaroveggente lei è una chiaroveggente soprattutto anche quello ho capito dal trailer hanno insistito a dire che lei vede le cose prima anche se non la controlla molto bene alcune cose vede alcune ok allora poi wikipedia dà una notizia che è molto importante credo che sia molto importante che è questa Cassandra Webb è la nonna della quarta donna ragno che si chiama Charlotte Witter sembrava importante e ho capito la nonna la nonna la nonna e quindi no quindi c'è ci aspettano già diverse generazioni di sequel è una origin story di quando lei era giovane perché mi sembra chiaramente lei non decrepita nella realtà pecorita esatto l'altra notizia comunque importante che avevo trovato che però non riesco più a ritrovare la sua pagina di wikipedia ah ah sì è che a un certo punto forse uno spoiler del film però sta scritto su wikipedia poi dà non è detto che il film ricalchi la storia pari pari però è il primo paragrafo di wikipedia e sostanzialmente spiega che lei a un certo punto viene ammazzata da una ma prima di morire passa i suoi poteri a julia carpenter che è il personaggio di sidney sweeney e quindi quello che non capisco è se dacota johnson in questo film ha cioè è una supereroina o se ha un ruolo tipo un leon nison nella minaccia fantasma per farci capire questo l'unica che sa recitare quel ruolo lì va messa così pone dei dubbi però non è detto quello che si vede nel trailer è che a un certo punto c'è un montaggio serratissimo dove si vedono almeno tre quattro costumi diversi uno dei quali comunque è quello di sidney sweeney vestitato a maragno allora io dico tutte queste cose Fabrizio non dice nonna ragno giusto però se avete delle notizie per esempio il gerva dice che in teoria la donna ragno originale è jessica drew non so se hanno inserito ma non hanno annunciato andiamo a vedere su imdb che c'è già il cast completo questo personaggio non esiste puntualmente non è più canon non è più canon non so un personaggio che invece sembra dal trailer non si capisce questa cosa però c'è un personaggio su imdb e che siete anche nel trailer che è quello di adam scott e ora vi faccio vedere adam scott uno degli unici due personaggi maschili del film mi sembra di capire imdb dice che adam scott interpreta ben parker quindi il famoso zio ben a meno che non sia una di quelle famiglie che chiamano ben chiunque non sia tipo un omonimo per confondere le idee esatto come fate la casa però questo lascierebbe pensare che si tratti di un pre quel di l'uomo ragni e quindi ambientato negli anni non c'è più palida idea cioè dipende a chi fa chi è che può essere credibile però scusa si dovrebbe vedere dalla new york in cui si muovono che sono 40 anni prima e invece non sembra e invece non sembra a meno che non sia una new york vabbè 40 anni non deve essere perfetta 40 sì in effetti almeno la vecchia dei crepiti quindi questo è un punto misterioso e l'altra cosa che volevo dire è che nel trailer a un certo punto si vede un altro personaggio che non si capisce che sia che sembra l'uomo ragno ma non è sembra uno dei mille costumi di essere l'uomo ragno lo faccio vedere subito è questo Calvin Klein c'è scritto dietro c'è scritto dietro esatto allora Calvin Klein è un personaggio che adesso cerco Calvin Klein su wiki per scoprire collegamenti con l'uomo ragno no in realtà no in realtà questo personaggio si chiama Ezekiel Sims questo ho scoperto nelle mie indagini ho pagato uno apposta per indagare queste cose credo bastava il leggere Stigno che l'ha detto immediatamente porche zesso sapevo io davo allungavo una banconota a Stigno invece io ho dovuto dare un centone a uno vabbè ecco qua Stigno però vedi che Stigno sapeva solo il nome non il cognome intanto che è Tarra che va in giro va in giro a dar la caccia a persone ragno esatto comunque sono andato sulla scheda wikipedia di Ezekiel Sims e ho scoperto questa cosa allora Ezekiel Sims è un ricco uomo d'affari che quando era giovane wikipedia dice che ha guadagnato ritualisticamente dei poteri simili a quelli dell'uomo ragno non capisco cosa intendo con ritualisticamente però sostanzialmente stai leggendo wikipedia italiano o inglese no quella inglese ok no perché wikipedia italiano è come leggere una cosa scritta dalle scimmie con la macchina da scrivere ok che è più o meno come traduco io quindi non deve essere molto diverso però insomma questo significa che lui è una specie di uomo ragno prima dell'uomo ragno e poi c'è una cosa che mi ha incuriosito lui si ritrova con questi poteri e decide che li vuole usare per diventare un eroe però in realtà essendo un uomo d'affari decide di mettere su un'organizzazione di fare una cosa un po' più alla batman con una base dietro con gente che lo aiuta questo è sempre capire e poi wikipedia dice che a un certo punto lui abbastanza velocemente diventa troppo occupato per usare i suoi poteri a me questa cosa mi fa ammazzare cioè io voglio immediatamente lo spin off su Ezekiel come denuncia al capitalismo più sfrenato dove tu guadagni il superpotere però devi lavorare troppo e quindi non usi non c'hai tempo per usare il superpotere perché devi lavorare e tutto questo spin off è tutta una sceneggiatura come The Big Short esatto non si capisce niente di economia è il dramma di uno che deve andare in ufficio si va a mattina presto poi c'ha sempre gli straordinari arriva a casa e poi è troppo stacco per usare sono le grandi responsabilità quelle sono le famose grandi responsabilità è una storia è una delle storie più tragiche che io abbia mai sentito veramente un po' vabbè comunque spero Ezekiel lui a quanto pare è il cattivo del film il cattivo di Madame Web e non so ci avrà tempo di fare il cattivo forse questo è ambientato quando lui aveva appena ricevuto i poteri e si era dato malato un paio di giorni quando ancora poteva esatto bei tempi santa pazienza poi me lo immagino che parla come zampetti sicuramente e se per telefono però lui dice lui potrebbe arrampicarsi sui muri però c'è quando chiama un cliente non gli serve niente capito non riesce a arrampicarsi perché c'ha la cornetta sempre qui tra la spalla e l'orecchio e quindi si deve aggrippare ma l'unica cosa a cui gli servono i poteri è che quando lo chiamo un cliente lui si arrampica va dove c'è più silenzio esatto dove prende meglio esatto è quello vabbè niente quindi credo spero che abbiamo fatto venire a tutti voglia di vedere sì sembra molto interessante soprattutto come abbiamo spiegato per concludere direi il quadro generale della situazione posso per esempio dirvi che non ho mai sentito nominare la regista si chiama S.J. Clarkson eh però mi sta già correggendo commetto che se fosse stato un regista l'avresti sentito nominare può essere perché quando leggo un nome di famiglia su IMDB io porro che mi caschi il bigolo cambio pagina segnali subito la pagina segnalo subito la pagina no lo so sono andato cioè alla fine diciamo le cose come stanno il problema è che gente con un non curriculum come questo maschi nel corso della storia ce ne sono state a bizzeffe la vera parità c'è quando anche una donna senza curriculum può girare un grande film di supereroi e finalmente è successo e siamo tutti contenti sì eh poi in realtà non è vero cioè è super esperto soltanto che ha fatto solo della tv ecco ha fatto molte serie conosciute avrà fatto una mamma per amica e quelle cose lì che fanno le donne ha fatto Jessica Jones se ti fai stare tranquillo ha fatto due episodi di Jessica Jones ha fatto un episodio di Orange is the New Black ha fatto a Gran TV però mai più di tre episodi a a serie sostanzialmente eh ma lo sai come sono le donne sei di Life on Mars poi ha fatto tre di tre di Dexter ha fatto di tutto Ugly Betty il Dottor House due episodi di Banshee addirittura Olly e Banshee Olly e Banshee Olly e Banshee eh no ha fatto una valanga di roba e forse due episodi dei Defenders che forse è quella che becca meno uno di Succession ah forse la cosa più grossa che ha fatto eh è un pilot di un prequel di Game of Thrones del 2019 che non è mai andato in onda però insomma al di là che non è andato in onda e vi anticipo subito che è un tema che questa sera ritornerà mi sembra che questo prequel di Game of Thrones sia la cosa più grossa che abbiano dato in mano finora fino a a Madame Web insomma comunque Fabrizio Onion chiede giustamente se secondo noi andrà bene o flop dall'alto della competenza che abbiamo dimostrato finora giustamente ci viene chiesto allora io dico solo una cosa io dico solo una cosa i fatti sono fatti e i fatti dicono che noi tre non siamo andati a vedere The Marvels e The Marvels ha floppato quindi cioè basta rispondere alla domanda vogliamo andare a vedere se non vogliamo andare a vedere il film flop mi sembra assolutamente scientifico e matematico a questo punto io butto lì che probabilmente non sarà cioè non sarà un successone come nessun film Sony è stato di supereroi Sony è stato un mega successo però forse qui il vago collegamento con Spider con gli Spider in generale e forse con Spider-Man porterà un pochino più di gente e comunque se anche questo film flopperà non sarà per colpa di The Marvels non sarà perché ci sono solo donne anche qui penso che una domanda importante sia la seguente mi sembra che Venom vabbè il primo è piaciuto abbastanza da farne un altro e il secondo anche se gli andette di tutti i colori ha fatto abbastanza soldi da mettere in cantiere un terzo che stanno girando adesso e Morbius è diventata la varzelletta però mi sembra che nonostante tutto anche al di là di Morbius l'interesse in generale per il cine universo dei cosiddetti sinistri sei che è una cosa che conosco persino io ovvero il cine universo con cui la Sony sta cercando di unire sei villain classici dell'uomo ragno in un cine universo per conto loro che poi si unirà con l'uomo ragno di Tom Holland mi sembra che ci sia interesse generico per quel cine universo lì anche perché col fatto che hanno già fatto vedere che si unirà con lo Spider-Man di Tom Holland secondo me fa scattare in qualcuno il tipo di molla perché dice lo vado a vedere perché in un certo punto sia un miracolo una cosa che mi interessa quindi c'è già una marcia in più che in questo momento forse è più della Marvel che ancora non si capisce dove vanno a parare ma io secondo me il problema di Marvel se il suo insuccesso è dettato al fatto che arriva in fondo a una fase che non aveva né capo né coda e questo oltretutto si riattacca a personaggi che o nessuno conosceva perché erano nelle serie tv che nessuno pochissimi hanno visto tipo Miss Marvel o era Captain Marvel che non è che sia proprio il personaggio più adorato e meglio trattato dall'MCU quindi è veramente il festival degli scarti di Marvel sì è il film sbagliato uscito nel momento sbagliato perché già con Antman 3 si era sentita una gran fatica questo secondo me ha un filo di potenzialità in più proprio perché si ricollega alla lontana a un filone a un arco mega giga arco narrativo che interessa di più in generale e probabilmente le aspettative sono anche un po' più basse da parte di Sony rispetto rispetto ai risultati che invece si aspetta sempre Disney esatto con Marvel hai capito quindi potrebbe anche essere considerato un successo in base al fatto che ci si aspetta non ci si aspetta il miliardo magari grazie Stigno grande va bene ho visto com'è 0-0 sì 0-0 fino a prima tempo 0-0 ma vale ancora questa cosa di registrare la partita per guardarsi a dopo no non c'ho più talla l'idea ma quel vuoc è proprio registrato sì sì esatto va bene abbiamo un sacco di uniti da darmi è meglio che passiamo a quella successiva se no non finiamo più la successiva ce la sbrighiamo in poco in abbastanza poco ma è una bellissima notizia almeno personalmente sono molto contento è uscito un teaser di Terrifier 3 il teaser è molto simpatico fa vedere una piccola bambina durante la mattina di Natale che sente il rumore in salotto quindi si sveglia scende vede Babbo Natale di spalle che sta sistemando i regali sotto l'albero è tutta contenta urla Babbo Natale e inquadrano Babbo Natale dall'altra parte in realtà è Artil Clown e il trailer lascia presagire che lui poi con l'ascia massacri la bambina in piccoli pezzetti e che il film ci farà vedere in modo assolutamente grafico in diretta dettagliato e poi lui si mangia i biscotti insuppati nel latte da buon Babbo Natale devo dire che sarebbe stato un teaser molto più carino se non mi avessero detto prima che era il teaser di Terrifier 3 e a quel punto è ovvio che poi lo vedi e dici ok anche se a di spalle è Art è chiaramente lui però vabbè l'ho trovato carino forse la cosa la cosa migliore forse o forse lo so solo io è l'inquadratura finale dove fammi vedere lui che ha fatto il massacro e poi ha scritto Art col sangue sul muro perché ha un doppio senso dovrebbe anche intendere che ha fatto un lavoro artistico quindi l'ho trovata molto simpatico e allora si sanno già diverse notizie su questo Terrifier 3 la prima è che uscirà il 25 di ottobre del prossimo anno e quindi Damien Leone se la piglia calma e lo gira dove stanno e conti di finirlo e l'altra cosa che ha detto esatto l'altra cosa che ha detto Damien Leone è che avrà un budget più alto rispetto ai precedenti che ricordiamo il budget dei precedenti primo film era costato una carta di caramella se contiamo anche il pre quell'episodio dove compare Art il Clown per la prima volta che All Hallows Eve sia costato pure meno di una carta di caramella che è al limite del guardabile e Terrifier 2 invece notoriamente è costato 250 mila dollari per la maggior parte tirati su con un kickstarter questo gli daranno un budget normale però insomma ci sono già due film che hanno dimostrato che non è il tipo di progetto che ha bisogno di un budget particolarmente ampio per rendere l'idea quello che non ha detto Damien Leone è quanto durerà il film il secondo durava 2 ore 20 per motivi il secondo durava il doppio del primo quindi magari questo dura il doppio del secondo quindi dura 5 ore 20 e 10 esatto è una buona tesi è una bella sfida anche questa ogni sequel dura il doppio del precedente ma dovrebbe andare avanti all'infinito sì ma perché penso che il succo sia questo no? è sbagliato doveva essere sempre meno budget purtroppo andrà a aumentare vabbè è tutto questo cioè quando è uscito il primo il primo era praticamente un omicidio dietro l'altro e qualcuno si è lamentato che ci mancava la trama allora Damien Leone ci ha aggiunto la trama ma lasciando il minutaggio degli omicidi praticamente uguale quindi per questo che dura il doppio e quindi non so il prossimo cioè se aumenta esponenzialmente in questo senso perché ci deve mettere qualcuno ha detto sì ma poi ci hai messo troppa trama non abbastanza omicidi oppure troppo diluita allora lui farà 2 ore 20 di omicidi è dura esatto Davide Schiano pone la giusta domanda se ritorna anche loro in Lavera e io posso rispondere sì perché ho appena controllato su Wikipedia ok mentre una che probabilmente non tornerà a meno che non hai controllato su Wikipedia pure questo è Gemma Canel la protagonista del primo film perché Gemma Canel nel frattempo ha girato un film che parla di un'attrice che diventa famosa per un film splatter su un clown assassino e lei non è contenta di questa cosa e va in crisi personale e quindi ah è un film scritto da lei magari è un film scritto da lei è un film scritto da lei è un film che effettivamente poi lo guardi e tu dici cioè e finché non compare nei titoli di coda la scritta in cui ringrazia Damien Leone quindi facendo dire che comunque era al corrente della cosa ed era ok con tutto fa abbastanza strano e detto questo ah no aspetta la cosa importante è questa che io mi sono dinticato il titolo del film che vi ho appena descritto però so che è in programma al Be Afraid Horror Fest che è questo weekend nel Friulano vi metto tutti i link domani ragazzi ho fatto un collegamento mentale che non prevedevo di fare questa sera quindi sono totalmente non ho capito il film quello che ho appena descritto di Gemma Cannell esatto vi metto tutti i link nel report di domani perché mi sono colto impreparato da solo che pure l'ho visto il film l'ho trovato molto simpatico cioè vale la pena andarlo a vedere siete in zona potete andare al festival festival in cui tra l'altro altra cosa che sono ricordato adesso ci sarà ospite Staglio Kubrick in persona a presentare il suo ultimo libro polvere e ossa che parla di dinosauri ed esplosioni tranne che è una storia vera e pensa te quindi se andate lì potete vedere entrambe le cose entrambe le cose esatto tre se contiamo che potete vedere anche il Friuli c'è anche il Friuli poi il resto è festa o la Venezia Giulia in realtà non so non so dov'è quindi non so dire se è Friuli o Venezia Giulia ci sono diversi titoli interessanti quindi domani nel report oppure adesso nel report per chi ci segue in differita metto il link al Biafraid Horror Fest e potete vedere insomma il programma detto questo passiamo all'altra bellissima notizia che ci hanno dato in questi giorni una casa di produzione italiana la Fabula Rasa ha annunciato i progetti molto interessanti tra cui quello di punta è indubbiamente una coproduzione col Giappone per fare un live action dell'uomo tigre è un progetto che ci lascia con molti interrogativi personalmente mi gasi sono gasato per principio penso che il motivo numero uno è che hanno deciso che il brand uomo tigre è talmente di richiamo che non interessa che tocchi fare un film sul wrestling in un momento in cui il wrestling in Italia non ho la più pallida idea di quanto sia popolare non mi sembra una cosa che sfondi al botteghino ci sembra veramente una cosa la gente ovvio che la mia generazione ricorda l'uomo tigre con tanto affetto rischiano la vita per certi versi Nanni sì un'orda di gente in cosplay da uomo tigre quello è uno spettacolo che non sono sicuro di voler vedere 45 anni incattiviti ma secondo te faranno una trasposizione letterale oppure faranno scusa interrompo però Giampier è stato attento e ha trovato il filo conduttore fra le notizie che abbiamo dato finora ovvero stiamo facendo il rituale mistico e dopo l'annuncio del filo conduttore ragno leone tigre si è abbonato Ercinico 87 quindi grazie mille e ringraziamo anche Giampiero per aver fatto abbonare Ercinico 87 con questo colpo di sgorz eccezionale e per Ercinico 87 ovviamente anche i ringraziamenti puntualissimi di Tulsa Doom e vai e poi di Caprotti Rocchi perché non abbiamo Caprotti uomo tigre però va bene lo stesso mi piace che l'hai chiamato Caprotti Rocchi 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 Caprotti Rocchi Caprotti è un bellissimo nome in effetti no vi chiedevo secondo voi sarà una una trasposizione letterale cioè faranno i salti le tripe capriole quelle cose lì oppure sarà una roba serissima tipo HBO che adesso sta per uscire il biopic dei Fonerik bella domanda in effetti non torni di moda perché di colpo sfonda il film sui Fonerik che lo vedo sinceramente un po' improbabile non lo so non ho idea di cosa abbiamo niente perché non hanno spiegato fino a quel punto hanno solo detto che è una coproduzione col Giappone ma che l'attore protagonista sarà italiano e devono ancora sceglierlo ho già visto nei commenti Favino che ovviamente è caro a Favino cioè parliamo a Favino fareste fare l'uomo tigre dove deve passare metafinco la maschera o gli fareste fare piuttosto un bell'Antoni in occhi cioè dovrebbe fare in occhi dovrebbe fare in occhi sì e poi dovrebbe prendersela con se stesso per avere accettato il ruolo di un giapponese però c'è stato un giapponese con un nome italiano quindi ci è stato è vero se l'è cercata esatto no l'ha scelto bene lui si chiamerà Pierfrancesco in occhi non so la domanda è anche questa cioè quanto tempo è che non guardate l'uomo tigre e che ricordi ne avete io non guardo l'uomo tigre da veramente tantissimissimo e al punto che al punto sì da allora al punto che l'unica cosa che mi ricordo davvero è la sigla come tutte come tutti e ogni tanto la chiedo ad Alexa se me la mette ma non me la mette ecco non capisci no non capisci mai un cazzo però cioè infatti io stavo quando ho letto la news pensavo che sono molto contento per quei quattro vecchini gli Abba sono una formazione tipo Abba mi pare che hanno che cantano la sigla dell'uomo tigre perché loro sono ancora molto appassionati tipo i cavalieri del re sì come è che si chiamano i cavalieri del re però non erano loro che facevano l'uomo tigre sai di no no non erano loro non era un monico fidenco adesso porca miseria ne sto sparando però così sul momento tra l'altro queste sono in teoria sono le cose della nostra fascia di età quindi almeno questo si dovrebbe sapere però no allora aspetta i nostri i nostri lettori abbiamo chi dice che sono i cavalieri del re abbiamo anche chi dice Nico Fidenico però sono i cavalieri del re wiki dice cavalieri del re ci chiediamo di Mark Holland che legge su wiki wiki eh loro nel circuito penso che nel circuito dei concerti ai centri commerciali che è un po' il ring riccardo la barba bianca che è un po' il ring di Cristina d'Avena e loro sono molto carichi sono molto contento per loro sì tra l'altro loro credo ormai dieci anni fa o forse dodici fecero un concerto a Luca che ha avuto più gente che i Rolling Stones penso che andrà di corso io a Luca ho visto Cristina d'Avena però io non sono contento finché non vedo so che ci sono già passati quindi probabilmente ho perso il treno ma non sono contento finché non vedo i cavalieri del tre e gli Oliveroni bello quello sarebbe veramente il massimo comunque allora Rial Santo 70 dice esiste già un terrificante live action stagger master del 2013 che ho visto ed è talmente inguardabile che non starei neanche a citarlo io farei direttamente finta che che non esista è una roba che non si guarda è imbarazzantissima è sto tipo qua che indossa una maschera e non ci non si capisce non è un wrestler praticamente c'ha sta maschera che chiaramente gli impedisce di vederci bene e quindi le mosse sono ancora più brutte per questo ed è una roba con un ritmo veramente soporifero che non ha il minimo senso quindi c'è io non voglio dire le parole che normalmente portano sfiga però a questo punto le dico secondo me è scontato che il film dell'uomo tigre che faremo noi sarà più bello di quello del 2013 luotto a te la parola ho una domanda come io come come mio compito leggo i commenti ho letto questa cosa che è passata sotto silenzio che Giampiero dice io ogni tanto canto la sigla a qualche evento comics e ora voglio assolutamente sapere se tipo la canticchia mentre va tra gli stand oppure se proprio c'è un palco e si esibisce il suo cavallo di battaglia allargo immediatamente il desiderio dei concerti che voglio vedere a Lucca l'allargo a Cavalieri del Re Oliver Ognon e Giampiero la canta alle gare sfigate sul palco ecco risposta ma cosa comunque vengo a vederti lo stesso io ci andrei comunque una cosa che io stavo dicendo cosa vi ricordate dell'uomo tigre per un motivo preciso ovvero che io l'ho guardato abbastanza di recente proprio il primo episodio ed è di una violenza spropositata è una cosa che non ha un sadismo mostruoso io ricordo una delle tigri no ma sangue sangue a fontane dall'episodio 1 ma roba che ma anche nella versione che vedevamo noi non era ossa frantumate cambiavano i colori penso che già nell'episodio 1 ma l'uomo tigre era violento pure lui cioè non solo i cattivi pure lui lo era però mossa numero 1 prendere il ring e glielo spacca in fronte a quell'altro a prendergli un taglio così tra l'altro cioè io ho fatto questa cosa ho cercato immagini dell'uomo tigre su google e ho detto adesso cerco solo uomo tigre senza cercare niente in particolare vedere quanto devo scorrere prima di trovare un'immagine violenta e in terza quarta fila c'era già questa gli stanno crescendo dei manghi sulla pancia cosa è successo con l'episodio in particolare delle foglie era no era veramente di una violenza senza senso che oggi a chi ha proposto oggi è roba non dico a livello terrifier però in confronto in confronto a un marvel qualsiasi sembra terrifier violenza grafica e violenza psicologica era proprio il perfetto mix esatto e non solo ricordo a tutti qualcuno secondo me l'ha già citato nei commenti ma non controllo ma lo faccio vedere subito chi è il cattivo più leggendario dell'uomo tigre e questo credo sicuramente tutti il mitico mister no chissà se verrà fa io l'ho mai però mi è venuto il dubbio adesso che probabilmente twitch o youtube ci censura però ormai ve l'ho fatta vedere vediamo vediamo se ce la passano liscia chissà se sarà rifatto pari pari nel film magari favino fa lui cioè voi ve lo ricordate Favino ho capito adesso in effetti potrebbe è il nome come madame web è già è già segnato il ruolo Favino era il nome della persona che metteva il costello no non mi ricordo chi è che che era mister no nel cartone cioè mi ricordo ancora la scena di quando lo smascherano perché non so se ve lo ricordate ma cioè lui muoveva la testa così e la si sentiva cigolare non si capiva cosa fosse e poi c'era un punto quando l'uomo tigre vince gli strappa la maschera perché si scopre questa era una maschera strappabile forse i buchi si strappa ed era ed era una persona esatto ed era una persona con una palla da bullying in testa che sono passati 50 anni e ancora una delle idee più spettacolari che abbiamo mai visto per un villain di un cartone animato un wrestler con una palla da bullying in testa che lui copre e perde e combatteva come una giraffa quindi faceva così si tirava delle gran crappate esatto eccezionale però come fai a fare l'uomo tigre senza fare mister no ti tocca in qualche modo lo devi citare ho guardato in giro ho visto la gente che se lo ricorda ci sono l'action figure anche di mister no che probabilmente la vostra fidanzata possiede questa è una battuta in bassa lega siamo oltre volevo ricordare anche giustamente che l'uomo tigre allora innanzitutto una cosa che forse non tutti sanno ma l'uomo tigre nasce prima come personaggio dei fumetti e cartone animato e solo dopo come lottatore è il percorso inverso di quanto tanti abbiano pensato quando a un certo punto anche in Italia davano il catch giapponese il resto è un giapponese che si chiamava catch per qualche ragione e e c'era Antonio Inocchio ovviamente che era una persona vera c'era il gigante Baba che era anche lui una persona vera e poi c'era l'uomo tigre quindi tutti abbiamo pensato probabilmente che l'uomo tigre era basato sul lottatore invece l'uomo tigre aveva fatto il percorso opposto era nato come fumetto cartone animato come manga cartone animato e poi talmente popolare che hanno preso uno gli hanno messo la maschera da un uomo tigre e ha detto tu sei l'uomo tigre poi questo era pure fortissimo e se vi beccate i match dell'uomo tigre su youtube sono la fine del mondo perché era uno veramente in gamba comunque questo è lui con i nochi e il gigante Baba ne prendevano sempre uno piccolino dico nella vita vera a fare a fare Tiger Mask Tiger Mask ne hanno sempre preso uno piccolino di quelli che che volavano in giro facevano i salti un peso un peso piuma un peso un peso leggero e invece mi sono sempre immaginato l'uomo tigre come un omone ragguardevole che che dava le pizze e poi invece nella vita vera hanno messo la maschera uno di quelli che invece fanno i salti sulle corde sì perché se vuoi fargli fare nella vita reale uno che è grosso come quello del cartone e che fa le mosse di quello del cartone non può esistere delle due luna uno che ammazza esatto nello specifico dello stile di combattimento dell'uomo tigre cioè al di là di che mi ricordo che faceva ogni tanto dei salti da paletto che decollava letteralmente si aggrappava i fari del palazzetto palazzetto che già di suo era alto almeno sette piani sì una cattedrale gotica esatto era una era una cattedrale gotica e già quelle cose lì le faceva però per il resto lo stile non mi ricordo tantissimo e dovrei ripassarlo io però quando hai detto catch giapponese mi è venuta in mente l'unica nozione che so in generale che guarda caso è proprio tema catch giapponese cioè che gli exogeni in realtà in Giappone sono nati come lottatori di catch bello sì mentre da noi sono spazzati per marziani per gran roba furbi però se guardi stanno tutti così come per fare le prese sì e se guardi in effetti ci sono quasi tutti umanoidi che hanno una maschera cioè al di là di quello fatto a dado non so se ti ricordi certo che non ricordo con il cubo di rubik con il personaggio che era il migliore la maggior parte degli altri in effetti c'erano uomini con una maschera c'era anche quello che era un urinale se ti ricordi l'urinale era un urinale solo che no aspetta era teiera era quello che si chiamava teiera no teiera aveva una teiera in testa ma da noi si chiamava faraone tipo era stato venduto in qualche altro modo e noi con la nostra innocenza di bambini non ce ne eravamo accorti ma se lo riguardi adesso è un pisciatoio con le piastrelle e tutto l'urinale fammelo cercare al volo exegini faraone si si c'ha ragione e adesso scarico fatemi prendere tempo perché ve lo devo far vedere ovviamente faraone eh Andrea giustamente ci ricorda che aveva anche la cacca in testa vi faccio vedere tutto vi faccio vedere tutto il nome faraone in effetti non ha senso però lui me lo ricordo non mi ero mai posto il problema poi da adulto con le con la la mente ormai privata della della fantasia infantile ho detto ah cazzo ma questo è un pisciatoio eccolo qua eh era un pisciatoio era un pisciatoio cioè non ci sono dubbi non c'è veramente il minimo dubbio è questo c'è un bel piastrellato intorno ma perché cioè devi fare uno sport in cui devi fare uno sport in cui devi lottare contro l'avversario e ti vesti da cose in cui l'avversario non vuole toccare e poi il messaggio è che bisogna cagare in cima alla testa e pisciare all'orinatoio ah sì anche è vero è anche diseducativo porca miseria è eccezionale è veramente eccezionale vedi e poi ci davano dei non competenti tanto avete imparato una cosa esatto possiamo dire una cosa forse abbiamo imparato troppo le cose giuste va bene allora l'ultima cosa che voglio dire sull'argomento giustamente è che abbiamo detto Antonio Inoki e quindi è un'ottima occasione per ricordarvi che esiste un'antologia di fumetti dedicata ad Antonio Inoki che si chiama Inoki della Tentacle è un'antologia che contiene ben 90 autori di fumetti tutti autori della Madonna tranne uno che sono io però io ho scritto un fumetto ho scritto una breve storia di quattro pagine anch'essa contenuta nel volume Inoki è storia che ha disegnato Silvia Califano ho scritto anche un articolo sul leggendario incontro tra Antonio Inoki e Muhammad Ali il libro ovviamente è questo e vi metto ovviamente il link per ordinarlo se per caso non l'avete già preso però che l'abbiamo già presentato abbiamo fatto una serata apposta della 400 Live quindi spero ve lo ricordiate ma nel dubbio ve lo spingo di nuovo detto questo la prossima Silvia Califano l'hai nominata ed eccola è comparsa grande Silvia volevo anche dire ridi ridi che la mamma ha fatto Inoki era giusto dirlo va bene passiamo alla prossima notizia che il tempo stringe abbiamo preparato un sacco di notizie facciamo che viviamo viviamo questa e ce la sbrigiamo allora sono iniziate dopo averle minacciate per una vita sono iniziate le riprese di Beverly Hills Cop 4 con Eddie Murphy abbiamo un'immagine bravo facciamo vedere questa l'altro lui è già photoshoppato con questa immagine è già photoshoppato per direttissimo sì però insomma lo sta finalmente girando finalmente possiamo puoi fare le virgolette per favore con le mani va bene faccio le virgolette con le mani grazie finalmente e allora si sanno le seguenti cose inizialmente dovevano girarlo aspetta è che stavo sono dimenticato il nome ve lo vado a recuperare subito i registi di Bad Boys for Life ovvero i leggendari LRB e Falla Ciccio e Franco no Adil LRB e Bilal Falla che sono però la storia è stata questa loro dovevano girare a Beverly Hills Cop e ora ha detto no perché abbiamo trovato un progetto migliore di questo abbiamo trovato Batgirl e sono andate a girare Batgirl e poi ricordate che è finita con Batgirl è finita che l'hanno girato e poi non gliel'hanno più fatto uscire perché la Warren doveva risparmiare quelle tasse quindi i nostri amici hanno rinunciato a girare Beverly's Cop 4 per fare un film che non uscirà mai perché è vietato dalle leggi tra l'altro è successa la stessa cosa anche a un altro film che non ricordo ma di recente hanno appena bloccato Willy Coyote sì il film di Willy Coyote esatto quindi il film di Willy Coyote con John Cena sì nei panni di Willy Coyote penso mentre indovina che c'è Bip Favino era ovvia questa no vabbè sono andato a vedere di cosa tratta Beverly's Cop 4 perché a un certo punto c'era stato un progetto che non mi ricordo se è andato in onda o meno ma di farne una specie di serie per la tv dove c'era il figlio di Axel Foley ovvero del passaggio di Eddie Murphy e quindi c'era questa cosa tra padre e figlio dove lui avrebbe passato l'eredità al figlio eccetera e mentre ho letto la trama del quarto e c'è Axel Foley e basta c'è una figlia però la figlia fa tipo l'avvocato e lei non è lì per fare l'erede di lui ma è lì per far scattare la trama sostanzialmente perché lei sta indagando a qualcosa e chiede l'aiuto del padre per indagare però lei non è un poliziato quindi lei non è lì per ereditare il ruolo da protagonista ma è per far compagnia a lui come un diehard quattro qualsiasi mentre non ci saranno i mitici amici di Axel Foley che vi facciamo vedere perché gli veniamo un sacco di bene anche loro e anche se ne sono scordati il nome perché funziona così però lui è Judge Reynolds e l'altro è John Ashton mentre i personaggi che si chiamavano porca miseria non lo ricordo perché mi viene Rosencrantz che è sicuramente sbagliato perché lui si chiamava Roswood una roba del genere però non sono Rosencrantz non sono Roswood e Gilderstein stavolta Eddie Murphy farà coppia con un altro poliziotto da solo che è interpretato da Joseph Gordon Levitt così a un signor che era Joseph Gordon Levitt no questo questo è Bruce Willis questo è Joseph Gordon Levitt Joseph Gordon che quindi ancora una volta non raccoglierà un testimone che sembrava che gli stessero dando perché lui c'era cos'era? ah lui dobbia fare Robin nella serie di Dark Knight è vero però ti immagini se trasfuorono Beverly Scope in una saga con Joseph Gordon Levitt e il nuovo Axel Foley sarebbe stato bellissimo un'ottima idea un'ottima idea e nel frattempo Silvia dice Roswood e Tuckard Roswood e Tuckard sì esatto però con il punto interrogativo ok è qualcosa è qualcosa di simile perché io mi ricordavo Tuckard con 2G per qualche motivo comunque va ve lo scriveremo nel report domani se volete se ci tenete ce l'ho da vedere adesso perché mai mi è venuto aiutarlo ho scritto Beverly Hills mi è venuto Beverly Hills 9210 che non è quello era bello se non te ne accorgevi dicevi si chiamavano Brandon esatto si chiamava Dylan McKay vi ho appena svelato che mi ricordo Dylan McKay ma non mi ricordo però era effettivamente Roswood e Tuckard però ci avevo preso cioè era nell'inconsuo ma c'era giusto era Tuckard che bello va bene mentre la regia alla fine è andata a un tipo al suo esordio un regista pubblicitario che ovviamente sono scordato i nomi ormai sono nella pagina di Beverly Hills Copp il primo e non l'ultimo anzi no ce l'ho aperto qua come le sapreste se queste notizie è senza di noi eh niente certo abbiamo queste fonti di informazioni che solo noi possediamo perché siamo dei giornalisti di mestiere altrimenti la casta esatto sì 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 che sono finito nell'unica pagina dove non c'è la notizia sul regista sembra di essere sul zoom con il mio padre tanta pazienza non trovo non so facciamo così il regista non è nessuno è un ex regista pubblicitario esatto e passiamo direttamente alla prossima notizia l'ultima anzi no dai vediamo due notizie velocemente la prenotizia è questa hanno anche annunciato Creed 4 ufficialmente e ancora di Creed 4 facciamo vedere questa è una gag che ci teneva a fare per questo credo tutti e quattro i Creed che bel font perché a misere veramente no comunque è ufficiale stanno preparando Creed 4 l'ha annunciato il famigerato Irving Winkler ovvero il produttore che a cui stallone ha riservato una marea di insulti nei mesi scorsi con cui si sta litigando appunto i diritti di Rocky però Irving Winkler l'ha annunciato Creed 4 sarà di nuovo diretto da Michael B. Jordan quindi non solo interpretato però ha detto che inizierà la preproduzione il prossimo anno e quindi insomma ci sarà ci sarà del tempo e non si sa ancora niente al di là insomma al di là che ha confermato Michael B. Jordan nella regia non so se volete ipotizzare un nuovo il russo l'hanno già fatto perché c'è già stato i figli di Drago e si è ritirato ed è tornato a sto turno tocca inventare tocca inventare perché ha fatto Rocky 4 ha fatto in anticipo poi ha fatto il terzo il primo non c'è senso farlo perché il cattivo la figlia è ancora troppo giovane ancora troppo giovane perché ancora troppo giovane gli tocca inventare qualcosa di nuovo ok i fan saranno assolutamente indignati perché perché il personaggio non ricorderà nessun personaggio precedente e quindi quindi non so e quindi è fuori sarebbe sarebbe incredibile il figlio di Clubberlang oppure Rocky 5 con il con il discepolo però fare una cosa di nuovo di nuovo sarebbe sarebbe divertente e si ritira dai professionisti e va a fare le olimpiadi da vecchio l'ultima cosa che fa sarebbe divertente sarebbe stracolmo di una retorica assolutamente insopportabile però però comunque ci fai le quattro risate a fare le olimpiadi però nel Bob come ora io un'idea ce l'ho però non ve la dico vi lancio solo un indizio però comunque lui ha già affrontato il lottatore russo e quindi lì non si può tornare però il modo in cui l'affrontava Creed 2 era più per una questione di famiglia e non per una questione politica mentre ci potrebbero essere altri conflitti internazionali che lui potrebbe risolvere con l'incontro di box mi fermo qua si fai bene fermarsi qua perché me ne sono venuti in mente due di conflitti internazionali e sono uno peggio dell'altro esatto quindi potrebbe anche essere una pessima idea però io l'ho messa lì è molto probabilmente una pessima idea americano non so non fanno lo scontro la guerra civile o un trampiano contro un democratico la buttano così cioè il campione dei trampiani lui sfide il campione dei trampiani e potrebbe essere quello sembra un'ottima idea e suggerire la pace tra i repubblicani democratici questo sarebbe bellissimo forse è la cosa di cui hanno bisogno negli Stati Uniti d'America oggi comunque detto questo passiamo invece all'ultima notizia che volevo darvi questa sera e che vi citiamo per un motivo solo che vi dico subito ovvero hanno annunciato un nuovo film con la coppia Denzel Washington diretto da Antoine Fuqua con cui lui ha già fatto Training Day ovviamente e la saga di Equalizer fanno un nuovo progetto insieme e il progetto in questione è niente meno che Hannibale Hannibale nel senso del famoso condottiero cartaginese ovvero il film che sono trent'anni che cerca di fare Vin Diesel e che il progetto della vita è di Vin Diesel e alla fine non riesce a farlo Vin Diesel lo fa Denzel Washington però io sono andato a cercare sul web delle immagini dei fotomontaggi ovviamente di Vin Diesel nei panni di Hannibale perché lui non è mai riuscito a girare penso che sia arrivato alla fase dello script però non è mai riuscito ad avere quel tipo di fama da dire da fargli venire cioè da dedicargli al progetto penso che quando ha avuto successo la saga di Fast and Furious lui ha capito che bene o male doveva rimanere lì e che non doveva più sforare però è il progetto che ha sempre voluto girare diciamo a inizio carriera comunque ho trovato questa bellissima immagine che vi faccio vedere e che amica era Vin Diesel che fa Hannibal che bello che bello quindi no non sarà non sarà Vin Diesel purtroppo alla fine forse di aspettare e finirà per farlo Denzel Washington qui ritratto mentre sta per andare a ordinare un kebab che è il cibo tipico della zona Magnus vuole sapere se Denzel fa Hannibale o Scipione l'africano ma Hannibale cioè è il protagonista non penso che annunci in un film su Hannibale con Denzel Washington e non dicano nessun altro attore se poi Denzel Washington non fa Hannibale sarebbe come annunciare Batman e poi ti dicono solo l'attore che fa il pinguino e non ti dicono chi fa Batman non so tra l'altro hanno annunciato Denzel Washington a tutti è venuta in mente una mezza cosa però c'è ovviamente il primo che tenta di fare la domanda abbassa subito la mano che dice no in questo ginepraio non ci voglio neanche mettere tirare un sasso e quindi va benissimo Denzel Washington che fa Hannibal va benissimo tanto alla fine la Tunisia è comunque Africa quindi ci sta non so se vale la regola no non vale la regola che sono un grande troppo abbiamo già che finisca è un discorso complesso discorso complesso vi raccontate quando ho scoperto che Christopher Lee aveva fatto un film in cui interpretava il fondatore del Pakistan questa stava la buttoli stava la buttoli e la lascio fate le vostre ricerche detto questo direi che vi abbiamo dato tutte le notizie di questa sera e vi ricordiamo quindi i prossimi appuntamenti questo giovedì che sarà il 23 sì all'ora 21 festeggeremo i 40 anni di un grandissimo classico un classico per una volta c'è un paio di settimane che tocchiamo degli argomenti controversi stavolta andiamo su sicuro a meno che non so forse c'è rischio di controversia anche su questo sono i 40 anni di Christine la macchina infernale di John Carpenter quindi a meno che non pensiamo che sia controverso il fatto che arriva la macchina di Satana e gli danno il nome di Donna potrebbe essere un film tranquillo oppure potrebbe essere controverso per quel motivo faccio vedere il poster Christine che ve lo ricordo è anche un film che almeno nel poster italiano aveva una tagline che in realtà era lunga nel corso della diretta leggerete quella tagline esatto eh non lo so questa è l'ora di chiuderla esatto probabilmente sì esatto c'è tutta la prefazione nella tagline e comunque giovedì 23 ore 21 Christine la macchina infernale mentre lunedì prossimo come sempre le news della settimana e l'altra cosa che potrebbe interessarvi è che questo venerdì mi trovate a Bergamo ospite di convivio voi direte ma convivio non è un festival di cinema una roba dove si mangia e vi dirò è proprio questa l'attrattiva sarò lì per quello sarò lì anche per un altro motivo finché sono lì a godermi il cibo alle ore 20 e 30 di venerdì presenterò un panel insieme a Emanuela Martini dove parleremo di cinema e cibo vogliono che io parli di con la bocca io ho spiegato che sono più esperto di bestie che mangiano persone piuttosto che di persone che mangiano bestie però parlerò parlerò di quello vi metto tutti ed è a Bergamo questo venerdì ed è a Bergamo questo venerdì alle 20 e 30 e basta direi che ho detto tutto vi metto il link a questo vi metto il link ovviamente anche per andare a sentire Staglio che parla di polvere ossa al Be Afraid Horror Fest e vi metterò un sacco di roba che mi sono segnato me la ricordo tutta e niente quindi non mi rimane che ringraziarvi tantissimo per averci seguito la partita quant'è ce l'avete scritto ancora 0 a 0 ci siamo persi una partita epocale a quanto pare veramente mi raccomando se l'Italia vince occhio alle metafore che usate per descrivere la vittoria sì fate attenti detto questo grazie mille per averci seguito siete stati pazientissimi grazie a quelli che ci ha seguito in diretta grazie a quelli che ci ha seguito in differita perché non siamo indifferenti alla differita grazie a Cristiana Liprandi e a Dario Cogliati per la videosigla al maestro Ludwig Van Verhoeven per la tenudia del VTN di Valverde grazie mille a Nano War of Steel per la sigla classica dei 400 calci e ciao buonanotte